Le interviste impossibili Giorgio Prosperi incontra Carlo Alberto Maesta La battaglia di Novara con cui si chiuse la campagna di guerra 1848-1849 presenta tutt'oggi parecchi lati oscuri Si è detto persino che è stata perduta dolosamente da uno Stato maggiore che preferiva una vittoria austriaca alla affermazione di un governo costituzionale e di un Parlamento fortemente orientato a sinistra È un'infamia Nessuno dei miei generali merita un affronto di questo genere né di qualsiasi altro genere Nemmeno il generale Ramorino? Il generale Ramorino ha scontato i suoi errori con una condanna a morte Comunque il generale Ramorino non proveniva certamente dallo Stato maggiore dell'esercito sardo Lei sa che ci fu imposto dai settori più radicali dell'opinione pubblica e del Parlamento Si arrivò a minacciare una sedizione dei volontari Se il generale Ramorino non aveva un alto comando Chi firmò la nomina del generale Ramorino? Il generale Perrone Un soldato valoroso Della cui lealtà non è possibile dubitare Caduto sul campo Davanti a Novara Alla testa della sua divisione Vostra Maestà controfirmò il decreto di nomina? Certamente Come sempre E se si fosse opposto? Nel 1834 Il generale Ramorino aveva cospirato con Mazzini contro Vostra Maestà Questo Semmai Ci impegnava a posporre la nostra persona agli interessi della patria Erano ormai Così pochi Coloro che anteponevano l'Italia e i loro interessi di parte Vostra Maestà era davvero convinto Che la nomina del generale Ramorino avrebbe giovato agli interessi della nazione? Dovevamo Essere convinti Non avevamo nessuna ragione di negare fiducia al generale Perrone E al generale Ramorino? Vostra Maestà mi perdoni ma questo è un dato di importanza fondamentale Ramorino era un uomo valoroso Ma sulla sua vita privata correvano voci Giocava ad azzardo Dicevano Con alterna fortuna I suoi costumi I suoi costumi Non erano irreprensibili Risulta che il suo comando quinta divisione a ridosso del Po Era frequentato da certe signore Prostituta? Se preferisce Banchettava Correvano su di lui Ho riferito dei fatti Dunque a maggior ragione bisognava escluderlo dal comando Vostra Maestà ne aveva il potere Ho già detto Che Ramorino era il candidato dei radicali Per di più era un mio nemico personale Ciò ne faceva gli occhi dell'estreme Un vero eroe Bene Si servissero Debbo intendere che Vostra Maestà ha consentito alla nomina Con la segreta intenzione di far ricadere su Ramorino e suoi amici La responsabilità di un eventuale insuccesso? Al solito in mancanza di fatti Lei fa il processo alle intenzioni Segrete per giunta La storia si fa con tutto Maestà Anche con le sfumature Dal momento che certe sfumature possono avere determinato Scelte di importanza decisiva Insomma Io avrei accettato la nomina di Ramorino Sperando che un suo errore potesse ricadere Sulla fazione democratica più accesa È assurdo Oltre che ridicolo E infame Lo sarebbe di sicuro Se Vostra Maestà avesse agito con fredda e cosciente determinazione Ma certi stati psicologici Sono pieni di incertezze Di contraddizioni Dica pure che più si è in alto E più le scelte diventano naceranti Si taglia nel vivo Anche se si crede di amputare un arto malato Nominare Ramorino significava Mortificare Una quantità di altri ufficiali Valorosi e coraggiosi Che avevano avuto il solo torto di restarmi sempre fedeli Eppure Per rispetto Non parlarono Accettarono Come avevo accettato io Non so che cosa abbiano pensato di quella nomina Ma se hanno fatto tacere un risentimento Mi pare che il loro merito cresca E non diminuisca per questo Credo che siamo arrivati al punto Maestà La guerra del 1848-49 Non è stata una guerra come le altre Non era né una guerra dinastica Né una guerra territoriale Si affrontavano due opposte concezioni Dell'uomo e del mondo In una parola Era una guerra rivoluzionaria Così voleva che fosse la parte più turbolenta del Parlamento Ma non era di fatto maestà Lo statuto modificava profondamente la composizione della società italiana Apriva nuove classi l'esercizio del potere Spodestava antichi privilegi Metteva in crisi la chiesa che aveva sempre visto nell'Austria Il più sicuro presidio della fede Una guerra così è naturalmente rivoluzionaria Io ho sempre cercato di pormi al di sopra delle fazioni E di considerarla la guerra di tutti gli italiani È vero È verissimo che vostra maestà sia sforzata di considerarla così A costo vorrei dire della sua personale felicità E forse della perfetta integrità del suo spirito La mia personale felicità Non so cosa sia Vi ho rinunciato negli anni più belli della mia vita Lo so maestà Mi chiedo solo se è giusto che un uomo rinuncia alla sua felicità Ma arriveremo anche a questo Per ora vorrei tentare di capire che cosa veramente è successo a Novara Abbiamo appurato che il generale Ramorino Ha perso una splendida occasione di tagliare in due l'esercito austriaco Cerchiamo di risalire ancora più indietro All'inizio della campagna È esatto che l'esercito sardo era superiore per numero di battaglioni e qualità di artiglierie? È esatto È esatto che il vostro esercito prese l'iniziativa delle operazioni? È esatto Passavamo il Ticino sul ponte di Bufalora diretti verso Magenta Dove correva voce che fosse concentrato il grosso dell'esercito austriaco Non trovammo nessuno L'accoglienza dei Lombardi fu scoraggiante Gli applausi e gli abbracci dell'anno prima li avevano pagati cari al ritorno degli austriaci Comunque il nemico era scomparso Informazioni incomplete e contraddittorie Accenavano una sua ritirata verso il sud lungo il corso del Ticino Contrariamente alle aspettative le popolazioni non collaborarono La ragione? Diffidenza E ci vorranno secoli per vincere il particolarismo degli italiani Cosa fu fatto per vincere quel particolarismo? Più di una guerra Che cosa avrebbero guadagnato da una guerra i contadini Lombardi? Da che mondo e mondo i contadini non hanno mai guadagnato nulla Da una guerra Sta di fatto che mentre l'esercito sardo avanzava al buio L'esercito austriaco disponeva di una tale rete di informatori Che non gli sfuggiva una sola mossa dell'esercito sardo La sola cosa che, inspiegabilmente, gli era sfuggita Era il dislocamento della divisione Ramorino sul Po Tutti sbagliano, come vede, anche gli austriaci Non ho mai sostenuto che gli austriaci abbiano brillato Per una particolare fantasia strategica Gli eserciti della restaurazione non brillano mai Per eccesso di fantasia Si accontentano di esercitare onestamente Il mestiere delle armi Vi attrassero dunque nel vuoto di magenta E ne profittarono per passare indisturbati il Ticino a Pavia E invadere il territorio piemontese Devo dire, ad onore di tutti i reparti Che appena intuite le intenzioni del nemico furono fronteggiate con esemplare rapidità Ripeto che se Ramorino avesse obbedito all'ordine di attaccare dal basso Mentre due divisioni tenevano in alto Ma questo è un punto assodato A meno che vostra maestà non sia a conoscenza di un dolo specifico a carico del generale Sta di fatto che la sua inspiegabile inerzia Mise in crisi il dispositivo a nord Dove truppe provate da una lunga marcia di spostamento Si trovarono a dover fronteggiare da sole l'intero esercito austriaco Non restava che un partito da prendere E fu adottato in buon ordine Quello di sganciarsi dal nemico E di ripiegare su Novara Minacciando il fianco destro dello schieramento di Radeschi Che avanzava come un cieco Tentando il terreno col bastone Convinto che ci fossimo ritirati verso occidente per coprire Torino I quattro corpi d'esercito di Radeschi Procedevano come un rastrello dai denti assai larghi E il più esterno, sulla destra Entrò in contatto con le nostre linee Quando il suo comandante, il generale Daspre Si rende conto di avere di fronte l'intero nostro schieramento Spedisce corrieri a briglia sciolta A chiedere il soccorso degli altri corpi Gli austriaci ottengono qualche vantaggio Anche perché la nostra terza divisione è duramente provata Da segni di cedimento Quando vede il suo comandante, il generale Perrone, cadere sul campo Ma non meno provato è il secondo corpo austriaco Che finora ha sostenuto da solo il peso della battaglia È a questo punto Che il generale maggiore Ksanowski Ordina il nostro contrattacco Ecco, siamo arrivati al secondo momento critico dell'intera campagna I critici militari sono d'accordo Nel sostenere che quel contrattacco Condotto dalla quarta divisione comandata dal minore dei nostri figli Il duca di Genova Spazzò gli austriaci dalla Bicocca Dove si erano insediati E li obbligò a ripiegare in disordine Per un buon tratto di terreno 12 chilometri Potevano essere di più Un istante ancora, maestà Il terreno va degradando dalle posizioni che tenevano i nostri e quelle degli austriaci È esatto È esatto Inoltre il terreno degradando ad asciutto si fa a quitrinoso I campi, ai lati dello stradale di Vigevano, sono coltivati a risaie Sicché la ritirata degli austriaci sotto l'incalzare della divisione duca di Genova Ebbe anche lo svantaggio del terreno Carri e traini uscirono di strade Andarono ad impantanarsi nelle risaie Nei reparti ci furono accenni di sbandamento E' a questo punto che il terzo corpo austriaco Quello dell'Apple Che marciava in soccorso del secondo Fu investito dai reparti di quest'ultimo in rotta disordinata È certo che gli ufficiali austriaci furono obbligati a puntare i revolver sui fuggiaschi Per ristabilire l'ordine Immagino che voglia sapere perché in simili condizioni La divisione duca di Genova ebbe l'ordine di ripiegamento Innanzitutto desidero sapere chi personalmente dette quell'ordine Non è un segreto militare che il comandante in capo dell'esercito sardo Era il generale maggiore Kzanowski Il solo che avesse il potere di dare simili ordini Secondo il giudizio di vostra maestà Quella controffensiva del duca di Genova poteva essere decisiva Certamente poteva produrre all'emico danni assai gravi Tanto più che alle spalle della nostra quarta divisione C'era la divisione di riserva duca di Savoia Intatta e pronta a intervenire Molti allora credettero che le sorti della campagna stessero per capovolgersi L'intero dispositivo austriaco rischiò d'essere chiuso in una trappola E nessuno fece obiezione a quell'ordine di ripiegamento Il duca di Genova tentò di resistere La giovinezza, il calore della battaglia, l'odore della vittoria Lo spingevano a portare avanti una controffensiva appena iniziata Ma era un soldato Per di più era un principe reale E doveva dare un esempio di disciplina Dovette cedere E vostra maestà? Io ero il re Prigioniero del mio comando Intendevo chiedere se vostra maestà fece rilevare al generale Krzanowski La inopportunità del suo ordine Avrei turbato un uomo già incerto e sfiduciato Qual era il suo giudizio sul generale Krzanowski? Io Non avevo Il diritto Di giudicare Al campo io ero appena tollerato Chi mi amava Mi considerava un temerario pericoloso Da tenere a freno Chi non mi amava Metteva in dubbio non solo la mia capacità Ma Addirittura la mia buona fede Furono unanimi nell'adebitarmi tutti gli errori della campagna di Lombardia Nessuno eccettuato Mi escludono dal comando Lasciandomene soltanto le insegne E per convincermi a rinunciare Perché la nomina comandante effettivo di un italiano non offenda la mia dignità Decidono di affidare il comando effettivo A uno straniero Un reduce dei moti di Polonia Krzanowski È un bravo uomo Dopotutto Anche se è stanco ad averne viste d'ogni colore E ora Vede Spogliandomi d'ogni comprensibile risentimento Le dirò che da un punto di vista puramente Professionale Quel ripiegamento fu una misura di prudenza Che può anche giustificarsi Nessuno di noi saprà mai Cosa sarebbe accaduto Se avessimo insistito nell'attacco La storia non si fa con i sé Un re Deve far tacere I propri sentimenti E sforzarsi di conciliare Attorno a sé Opposte tendenze Ebbene Vostra Maestà mi consenta di osservare Che la condotta di questa guerra Rispecchia molto bene il tentativo di conciliare tendenze opposte Desiderio di vincere Il timore del proprio governo Che intende la guerra in modo diverso dai generali che la combattono Odio per il nemico che si accampa sul suolo della patria E desiderio di non disgustarlo troppo Perché sono in molti a temere la rivoluzione più degli austriaci Non si può al tempo stesso fare una guerra rivoluzionaria E avere paura della rivoluzione Lo so Una guerra di liberazione È come un'opera d'arte Non ci si può affidare All'ispirazione Se un'altra parte della nostra mente La contesta Come un critico diffidente L'ispirazione Si infiacchisce Dubita Perde di concentrazione Interrompe Il contatto Tra l'idea E le sue forme A volte L'ispirazione è estemporanea Arriva quando meno ce l'aspettiamo Così sembra almeno perché in realtà Cowa nascosta da chissà quanto tempo E a un tratto Si manifesta Quel giorno per esempio Era come se fosse esplosa Un tratto nelle truppe lanciate alla controffensiva Deliravano Si faceva fatica a tenere a freni le parti destinati alla riserva Voglio dire che truppe così Lanciate contro un nemico in crisi Valgono assai di più dei battaglioni In condizioni normali di combattimento Secondo vostra maestà Quelle truppe videro più chiaro degli altri comandi Può darsi Che insistere nell'offensiva Fosse comunque un errore Il comportamento del generale Ksanoski Fu corretto Da manuale Egli ha obbedito A una regola accademica Invece che a un'impennata della fantasia Ma perché avrebbe dovuto averla? Per i fanti piemontesi Una vittoria poteva significare Magari oscuramente Un altro modo di vivere Ma per Ksanoski O per Ramorino Una vittoria era ciò che può essere per un chirurgo Un'operazione ben fatta Chi li ha scelti Si intendeva poco di rivoluzioni Non sapeva che lo spirito rivoluzionario Deperisce Come tutte le cose Chi è stato rivoluzionario in gioventù Da vecchio diventa Prudente Vuole vivere E vostra maestà Che ha tracciato un'analisi così precisa Come non ebbe l'ispirazione Di prendere in pugno le sorti della battaglia In un momento che poteva essere decisivo Perché Molte cose si capiscono Dopo Molto dopo Potevo pormi alla nomina di Ramorino Certo La legge me ne dava il diritto Ma la mia coscienza Non era limpida Lo stesso accadde con Ksanoski Ambe due avevano combattuto per la libertà Quando io Pur amando la libertà L'avevo repressa Per il bene dell'Italia Avevo cercato di convincermi Ecco Questo dava sollievo alla ragione Ma il fondo della coscienza Continuava a soffrirne Io Non potevo Agire Con autonomia Ad ogni impulso naturale Corrispondeva Un colpo d'arresto Uno sgomento Eppure Durante tutto il corso della battaglia Vostra maestà Si è comportato con grandissimo coraggio Con coraggio Temerario Quasi ingiustificato Dal momento che al calare del sole Le sorti del combattimento Erano praticamente decise Ho fatto ciò che di solito Siamo indotti a fare Quando non riusciamo A vedere una via d'uscita Ho sperato di E di morire in combattimento Pensavo che fosse la fine più giusta Pagare Con quanto avevo di più caro Mandarmene col rimpianto di tutti Creare Una leggenda Avevo sognato Un mito L'avrei avuto in morte Questo avrebbe cambiato Tutto il quadro Non risulta che vostra maestà Abbia amato la vita più di ogni cosa Al contrario L'ha sempre messa a rischio Non solo in battaglia Ma nei giochi Quando era ragazzo E una sera A Firenze In un attimo di disperazione Se un servitore Non avesse dato l'alarme Ah la prego Voglio dirle Una cosa Perché posso trarne Le esatte conseguenze La libertà Dopo essermene nutrito Al seno di mia madre L'ho respirata nell'aria Nei discorsi Nella scuola Nei giochi Prima a Parigi Poi in Svizzera Poi Un bel giorno Fui ricondotto A Palazzo Reale Perché il nostro buon re Era tornato sul trono E io Ne ero l'erede Mi sottoposero A una disciplina di rigore Obedienze giaculatorie Per purgarmi Dei demoni Che di sicuro M'ero preso Come pidocchi A Parigi e a Ginevra Il risultato fu che Mi trovai addosso Due nuovi demoni E ben altrimenti Insinuanti e pericolosi Il desiderio del potere Il regno E l'ipocrisia Per conquistarlo E poi mantenerlo Se lei Vuole capire qualche cosa Deve capire Che accanto all'amore Della libertà Vero Guardi Vero Sofferto Anche se umiliato C'era quest'altra passione Il regno Ecco Ciò che veramente Ho amato di più Ed è con questa moneta Che doveva pagare È così E non ero il solo Sa Erano innumerevoli Gli uomini Della mia epoca Lacerati tra La libertà E il potere Ecco I perché Della battaglia Di Novara Tutto qui Ma io ero Il re Nel gioco delle parti Spettava a me La conclusione L'uscita finale Lì Davvero Ci è voluto Coraggio La rinuncia Sapevo che non sarei Sopravvissuto Che cosa può dire Vostra maestà Ai nostri Contemporanei I vostri Contemporanei Hanno molta fretta Di realizzare Una volta Per tutti I loro ideali Il salto Essi Sognano Il salto Con qualunque Mezzo Per questo Sono disposti Ad andare Contra se stessi Ad allearsi Con i loro Peggiori nemici La passione Diventa Vizio E' una vecchia Storia Che conosciamo Soltanto dopo Nella interminabile Meditazione Le sole cose Di noi Che ritroviamo Sono quelle Che abbiamo avuto La forza Di perdere Abbiamo trasmesso L'intervista Impossibile Di Giorgio Prosperi Con Carlo Alberto Carlo Alberto Era Sergio Fantoni Regia Di Andrea Camilleri Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti